Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Questo sarà un video ASMR come avete potuto leggere dal titolo E oggi faremo diversi suoi super rilassanti Prima di tutto voglio sapere come state, se state bene Ma sicuramente state bene E che cosa avete fatto di bello in queste vacanze natalizie Io vado a pentinarmi un po' I capelli Qui è volto sempre un po' di note E' un po' di note Oggi volevo parlarvi della legge di attrazione E volevo sapere se voi la conoscevate La legge di attrazione è davvero il mio stile di vita E volevo sapere se anche voi la conoscevate Adoro tantissimo questa crema Che ha di bottega verde al peperosa E me la mando proprio all'azienda tempo fa, tipo due anni fa E ne ho ancora un po' Ho sentito che anche a veglia del canale Black Moon ASMR Dicevo, se non erro, che questa è una crema, una linea di bottega verde Che piace molto anche a veglia del canale Black Moon E io, io adoro questa crema Troppo, troppo buona E io, io adoro questa crema Grazie a tutti. Spero che vi siate rilassando e addormentando. Tra poco pure io me ne vado all'entro. Buona notte. Buona notte.